Sono davvero grato agli amici e alle amiche del Forum di Suguaglianze e Diversità che da tre anni esatti si applicano con deliberata tenacia alla fatica di far crescere la consapevolezza, dell'urgenza, di sanare le crescenti disuguaglianze e mettere finalmente in armonia le differenze. Abbiamo bisogno di crescere nell'intelligenza delle idee, dei numeri e delle storie che ci spingono a costruire una società più umana e più giusta. E' importante che questo accada ed è realistico. Auguri dunque. Buon avvenire.